Buongiorno a tutti ragazzi qui DeFrentis sono un nuovo video del canale ragazzi Sì ragazzi sono andati qui oggi sul canale con un nuovo video un po' particolare e diverso dagli altri Oggi ragazzi siamo in compagnia di Shady Buongiorno a tutti ragazzi E oggi ragazzi abbiamo deciso di portare indovinare gli youtuber Ovvero la challenge di indovinare gli youtuber Ragazzi questa challenge consiste nel mandarci 5 ad 8 appunto arriverà a 5 Dei pezzi del colpo di uno youtuber Esatto non sono pezzi voluti Chi indovina esatto Chi arriva a 5 vince la challenge Quindi ragazzi ci divertiamo tantissimo e vi raccomando prima di iniziare il video di lasciare 30 likes del questo tipo di challenge con piaceri E saremo lieti di riportarla Ovvio Ok ragazzi iniziamo subito a mandargli la prima foto Allora Dai questo è semplice Simone Pacello Ok la prima foto è indovinata Quindi 1-0 per Shady Già incominciamo male per noi Allora vediamo che mi manda lui sicuramente Ho anche emmerdato Un minuto Ok Ho visto che non l'ha presa bene Ok No onestamente non vorrei essere così tanto bastardo Non voglio essere così tanto bastardo Quindi un minuto vabbè vi devi No cazzo sbagliato Vabbè che facciamo Non puoi offendere nessuno con queste immagini Cioè soprattutto se ci guardi non ti offendere Sei il mio idol No Ma dai ma dai Ma che cazzo no Si capisce dal naso ragazzi Esatto Stepney ragazzi Bravo Stepney non ti offendere però Dove inviarla No è il nostro idol Il mio idol 1-1 1-1 ragazzi DeFrancis è pareggio Quindi ora andiamo avanti con Vediamo ora Se fa il bastardo DeFrancis Vediamo se lo posso inculare adesso Comunque ragazzi iscrivetevi pure nel mio canale Perché diciamo Ragazzi trovate il suo Ho riconosciuto da zero ragazzi Aspetto a te Secondo sto lavorando Adesso rimatterò un pezzo unico Io a te aspetto Ragazzi con questa foto lo smertiamo Ragazzi lo smertiamo Perché non lo indoviderà mai A meno che non è un cazzo di genio Aspetto te Dove è inviata? Non è arrivata Ok a me dice che è arrivata Vediamo se è arrivata non so Ok Ok Allora Sono semplice È anima Porca troia Ma porca troia È anima Mi è saltato tutto Mi è saltato tutto Ragazzi è semplice ragazzi Ragazzi stiamo due a uno Per scegliere Già sta andando parecchio male Come inizio Quindi Dai aspetto te adesso Dai pezzo di merda Allora Allora La voce del drogato Mi mando sempre Vediamo Questo è difficile ragazzi Se lo capisci È più genio di me Minchia Ho già vedo una barba Zio Oh porca troia Porca troia Che cazzo è questo Ciccio gamer No Giocherino No Ultima possibilità Con la barba Fa ridere nei suoi video Fa ridere Che video tratta Gaming Fa un po' di vlog È di Della Sicilia Della Sicilia Quindi già È siciliana È uno dei miei idoli Murri No Mi dispiace Porca troia Chi era? Te la invio Se no poi non ci credo Comunque è il grande Peppo 3393 Ma dai No raga Veramente raga Siamo quanto? 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Per Shady Che si sta Diriggendo verso la fine Della challenge Vicendo Ecco ragazzi Non so se si vede Non si vede L'hai vista la foto Sì sì l'ho vista Allora andiamo Siccome sono terminate le foto Ora andiamo a scegliere una proprio in diretta da Google Quindi ragazzi E io pensavo di non conoscere a nessuno Ragazzi Ok ora partiamo subito Dopo i coppi di stallo Vedete tipo sembro È bastarda questa immagine Troppo bastarda Mi Allora cerchiamo uno youtuber Bello Ok Scusate ragazzi come sono messo perché Per ora la mia postazione è fissa Non è ancora sissata La postazione La postazione Il mio doppio sensi di Shady Questo DeFranchis Pervertito ragazzi Ora qua No Qua Dovrebbe spuntare Pervertito Mode On Quindi Allora vediamo qua Aspetta un secondo Sto cercando 3 ore dopo ragazzi Mentre avremo Il nostro team speak privato Lasceremo Il link In descrizione Però Questo è quello privato nostro Poi ne creeremo un altro Di minimo 100 Esatto Per voi I nostri iscritti Aspetto a te Si sta Eccolo Eccolo Sto ritagliando ragazzi Scusate Sono delle cuffie di merda Però Grazie Compatitemi Ragazzi Qua Lo battiamo Se indovina ragazzi Io tiro il computer E ritiro il canale Ragazzi Se lo indovina L'ho vista Questa fotografia Ragazzi L'ho vista Chi è? Indizi Eh vabbè E' Giampi Catta Gaming Come cazzo Ho fatto A indovinarlo Tutte E siamo 4 a 1 Ragazzi 4 a 1 Ma che merdata Tocca a te Deve studiare Tanto almeno Recupero 4 a 1 Il match point E' per scegliere Questo Penso E lo indovini Vediamo che mi invita Speriamo che lo indovino Non penso Dobbiamo sperare Ancora non mi ha inviato niente Cioè questo mi preoccupa Questa è facile E sarà sicuramente qualche Se non indovina questo Proprio ti vuoi ritirare da YouTube Eh ok Vabbè Surrealpower? No Come no? Hai altre due possibilità Ma è Surrealpower? No Tratta Video Gaming E' siciliano? No Fa video Su Clash of Clans Non lo so Chi è? Clash Royale Ah Minecraft 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 Lo tratta Sul telefono quindi? Sì Ah è l'ultimo indizio che ti do Ha fatto un video di Pokemon Go Sull'overboard Ragazzi Qua Spunterà il timer Di 10 secondi Quindi 10 Non lo so Non lo so Ti ritiri? Sì Mi ritiro Mi ritiro Allora Diamogli la fotografia Te lo dico qua Oppure vedi la fotografia E me lo dici? No Dimelo qua Dimelo qua Yakidale Allora Sinceramente Io non lo conosco Come non conosci Yakidale? Io Non lo Cioè Almeno non lo seguo Ma non neanche lo conosco Vuoi un'altra chance Vai ti do un'altra chance Vabbè Ultima chance per recuperare Dopodiché Sono Nella Raga quando lui fa silenzio Io mi preoccupo Perché manda queste foto Tipo che ti inculano così E non l'aps Inculato Questa è difficilissima Sono un bastardo ragazzi Eh vabbè S'è capito che avevi vinto questa sfida Tanto ci dà un'altra challenge Raga con lui dove gli spacca il culo Non è maschio Non è maschio Greta Menchi Bravo Oh Finalmente raga Finalmente 4 a 2 E possiamo ancora farci Raga Mai demordere Perché Come ho perso Raga Dai come se avrei vinto Però diciamo Voglio continuare questa challenge Sennò verrebbe un video troppo corto Ragazzi Quindi ragazzi Continuiamo Eh Vi mando un ultimo youtuber Vediamo cosa Ti posso mandare Fatemi Minchia raga Qua 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 spacca Qua gli abbiamo messo nel culo Come sempre Guardate raga Qua proprio Raga Lui qua non fa niente Se lo so Ti ritiri da YouTube Italia No Non mi ritiro Però Ho perso la challenge Ho perso la challenge Hai inviato? Aspetta Sto ritagliando Già quando dice Sto ritagliando Io ho paura Possiamo notare Joyseek E Minecraft Inviata? Inviata Sta caricando Ok Inviata Queste metti di stato Nel teletto Allora È uno youtuber Giovane Per farti dire Di come dire Un indizio Per dirtelo Così Tanto per Che mi fai pena Quindi Sti capelli Altri indizi Fa video su gaming FIFA 16 Ha fatto il 193 draft È stato il primo youtuber italiano Giovane Della nostra età Non lo conosco in rente Boom ragazzi È IMZERO Ragazzi Lo saluto IMZERO Perché È un mito Inzio Che Fra l'altro È una nostra età Penso E ha già 56.000 iscritti Quindi Ragazzi Stiamo 4 a 3 Ragazzi Mi manco un punto Per recuperare E poi Se facciamo 4 a 4 Facciamo a 6 Pizzo 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 Grazie Non mi preoccupare Qua Si va a far fotte Ok Andiamo Con Tocca te Lo so Tocca te Vediamo Che minchia Mi spara Stavolo Voglio essere bastardo Ragazzi Lo ha fatto bastardo Con me E io lo faccio Lo faccio Lo faccio Il suo silenzio Come è sempre Il suo silenzio Come è sempre Mia Io sono bastardo ragazzi Se indovina Indovina Perché se segui sui video Se no Ho vinto Mandata Grazie Se è fatto Papà No Non è papà Vegas Vero Papà Vegas No Che video fa? Gaming Quanti iscriviti ha? Quanti iscriviti ha? 50.000 Poi è conosciuto Ha molti amici importanti 850.000 Sotto 50.000 Ha molti amici importanti Conoci tutti youtuber Chi è Sbuchi? No Salutiamo Sbuchi Sempre se si vedranno Stimili E' l'ultima chance Quindi Mettiamo di nuovo Il timer qua 10 Non lo so Non lo so Mi arrendo Dimmi chi è Guarda l'immagine Dimmi chi Tutti Lo so Lo conosco Lo conosco Eh ragazzi Ho vinto ragazzi Che ci potete fare Sono il king Conosco tutti Stavolta ragazzi Ha vinto lui questa challenge Ma vi assicuro Che è un altro challenge Come una crossbar Come una cestino challenge Io gli spacco il culo E lo mando a casa Sono il king ragazzi Ora è invidio È invidio Come invidio Ma bene ragazzi Per questa indovina Youtuber challenge È tutto Vi ricordo di lasciare 20 like Sono lì di riportarvi Questa stessa challenge Magari con un altro ospite Insieme a Shadi Magari di farla A tre persone A tre youtuber Iscrivetevi Nei nostri canali Io vi lascio il suo canale In descrizione Di Shadi Anche qualche social Social E spunterà pure qua Al canale Esatto E niente ragazzi Dal Defensis è tutto Shadi è un coglione Ha vinto la challenge Noi ci vediamo al prossimo video Sono il king Saluto Bella a tutti ragazzi